È collaborativo ma non ha fatto alcuna missione. Giorgia Furlanetto, avvocato di Enrico Mantohan, il 41enne originario del Padovano, sospettato di essere il fleximan del Polesine, descrive così il suo assistito e smentisce qualsiasi confessione dell'uomo indagato dalla procura di Rovigo che gli contesta episodi di danneggiamento ai velox avvenuti nel Polesine tra il maggio del 2023 e il gennaio del 2024. L'avvocato Furlanetto smentisce anche che nell'alloggio del 41enne siano stati sequestrati arnesi. Al momento solo due tablet e il cellulare sono stati prelevati dai carabinieri durante le perquisizioni del monolocale dove Mantohan viveva ad Ariano Polesine. Enrico è sereno e ringrazio a tutti coloro che gli stanno dimostrando grande solidarietà e sostegno continua legale in un comunicato stampa. Nel sito internet del gruppo Pro Italia, infatti, è scattata una raccolta fondi non ufficiale per sostenere le spese legali per il presunto fleximan. Il 41enne è un militante di forza nuova e l'avvocato Furlanetto parla di campagne difamatorie causate dal suo orientamento politico. A dicastrare Mantohan, in base al materiale acquisto dalla procura, ci sarebbero le immagini delle telecamere di videosorveglianza che l'avrebbero ripreso in modo piuttosto evidente a Rosolina ad inizio gennaio nell'ultimo danneggiamento.